Luca Antonioli, giugno da Ciment, progetto di impresa nazionale. Progetto di impresa nazionale è un progetto che praticamente verte nelle scuole superiori, terzo, quinto, quarto, quinto anno, è un progetto imprenditoriale, un progetto molto importante perché unisce, cerca di unire il mondo della scuola con il mondo del lavoro che è molto distante in questo periodo e soprattutto in questo momento. La scuola ha bisogno di rinnovarsi e con questi progetti non soltanto l'impresa nazionale ma cerca di rinnovarsi in quanto con una metodologia diversa dalla lezione frontale, ovvero il learning by doing, imparando facendo i ragazzi cercano di imparare il più possibile facendo. La cosa bella di questo progetto è che entrano in contatto direttamente con persone competenti in quanto vengono all'interno della classe di aiuto come coach, come mentor, start-upper, giovani imprenditori, quindi persone competenti che possano aiutare nel loro futuro. Con Junior Achievement abbiamo voluto portare la cultura di impresa nelle scuole superiori in modo tale da far conoscere che cosa sia l'impresa e come le competenze possano essere valorizzate per realizzare idee innovative e trasformarle in opportunità per il territorio. Questa è un'iniziativa in continuità con il nostro incubatore di impresa Tecnosin e con quanto Friuli Innovazione sta facendo per favorire lo sviluppo e la crescita di questo territorio.